Ancora ha cominciato il video, dai! Allora, stiamo parlando... Guarda questo barco, troppo bellissimo andare, troppo veloce. Allora, stiamo parlando di questo luogo. Ok. Questo è... Questo lago, porco cazzo. Questo lago. Allora, we are in July so much with my friends and... Where is your other friend? And... I've seen very many beautiful girls and... Enjoying so much. Where is your... A lot of tourists came here to... Oh, what the fuck! Where is your friend? And... We have no girlfriend so therefore... You have no girlfriend? We are enjoying alone. You have no girlfriend? You have no girlfriend? Preni un'altra ragazza da richink vera posti si. Oh, papi chulo! Chumalako! This is Suraj! Bada budihul sinh baba! Guarnalai! Yes, yes! I am so murdered in class. Buon bad lad? flame le e chassi? Eee, come and eat. Come and eat. Come and eat. Che estran, come and eat. Eee, come and eat? ti ha detto che non ci sono non ci sono non ci sono non ci sono